Buongiorno, benvenuti dalla redazione web della città di Torino al nostro primo appuntamento di questa settimana con le notizie dal web della città, notizie che come vi ricordo potete seguire sul nostro canale Ustream in diretta e sul nostro canale YouTube a partire dalle 10 e dalle 17 dopo le nostre due edizioni quotidiane. Cominciamo come al solito con la viabilità, oggi è una giornata particolarmente difficile perché come sapete è in atto uno sciopero dei mezzi pubblici in città, allora sentiamo Walter Gerbi e le notizie che ha da darci sulla viabilità di oggi. Walter. Le notizie di oggi in collegamento con la centrale operativa del comando di polizia municipale di Torino. Buon lunedì 10 novembre, le notizie di oggi. In piazza Stampali a chiusura tratto compreso tra via Veneria e Strada Lanzo per lavori edizio, lavori in via Montebello tra via Poe e via Verdi e in via Adige tra via Toce e via Tanaro, rallentamenti in corso Moncalieri 114 per lavori 5T e all'altezza del civico 14 per lavori AES, sempre per lavori AES, rallentamenti via Beaumont lato sud da corso Francia a via Somis, inversione senso di marcia in via Montano, divieto di transito in corso Tassoni contro Viale Ovest tra via Montano e Piazza Bernini, divieto di transito in strada a Babila Zanetti da corso Moncalieri al civico 25, semafori manutenzioni in via Nizza angolo Corso Spezia, corso Vittorio Emanuele, angolo via La Grange e Nizza, corso Monte Grappa, angolo via Servais e Lessona e via Race Romo, angolo via Lulli. Le altre notizie, oggi sciopero dei mezzi pubblici, fasce protette del servizio urbano e suburbano e metropolitana, esclusi le linee 43, 46 barrato e 19, dalle 6 alle 9 e dalle 12 alle 15. Autolinee extraurbane più le linee 43, 46 barrato e 19 e ferrovie GTT, da inizio servizio alle 8 e dalle 14.30 alle ore 17.30. Oggi non saranno in vigore la ZTL centrale e quella ambientale. Alle ore 20.30 in via Buniva 10 presso la scuola elementare a Fontana, assemblea circoscrizionale di Borgata, zona Vanchiglia. Alle 21, corso Corsica 55, consiglio di circoscrizione del quartiere 9, inizio in goto a Filadelfia. Presidio dipendenti Abit Piemonte, fronte Confagricoltura, in corso Vittorio Emanuele 58. Presidio Solidarietà, fronte Paragiustizia dalle 9, in concomitanza della prima udienza contro chi si è reso responsabile degli incidenti accaduti a Benaus, a margine di una manifestazione contro l'avvio dei cantieri dell'alta velocità. Presidio dalle 9 alle 13, in via Bogino 23, fronte l'Arpea della Col di Retti Piemonte per sollecitare il pagamento dei contributi del piano di sviluppo agricolo in arretrato da circa due anni. È tutto, buon viaggio. Grazie Walter, come avete sentito notizie che riguardano un po' tutta la città, la notizia principale è quella dello shop, però ve la ribadiremo anche tra qualche istante vedendo le notizie dalla homepage della nostra città. Vi ricordo comunque che tutto quanto ha detto Walter lo potete trovare sul sito dei vigili urbani all'interno della sezione ultimo minuto che vedete ora in sovrimpressione l'indirizzo del sito della Polizia Municipale, potete anche ricevere il tutto via email gratuitamente, trovate le istruzioni sul sito. Per quanto riguarda il tempo c'è un miglioramento rispetto alla settimana precedente, la situazione attuale dalla rilevazione dell'Arpea Piemonte delle ore 8 ci dà un cielo sereno, si è abbassata però la temperatura di circa 3 gradi rispetto alle ultime mattinate della settimana scorsa, abbiamo 6 gradi circa di temperatura, un'umidità ancora alta e questo ci porta a delle previsioni di pioggia e temporali per quanto riguarda il resto della giornata fino alla notte. Torniamo in onda per vedere gli appuntamenti istituzionali, vi ricordo che oggi è lunedì quindi abbiamo la seduta del Consiglio Comunale alle 15 che potrete tranquillamente seguire in diretta sul nostro canale multimediale, in diretta web, ci sarà un evento particolare all'interno della seduta di oggi perché alle 17 sarà consegnata a Giuseppe Masciari la cittadinanza onoraria del Comune di Torino. L'evento sarà preceduto da un altro evento questa mattina dalle 10 alle 12, un convegno sul tema dell'educazione e la legalità alla Galleria d'Arte Moderna di Via Magenta organizzato dal Consiglio Comunale. Giuseppe Masciari è infatti un imprenditore edile che si è distinto per il coraggio con il quale ha risposto alle minacce dell'Andrangheta e per ragioni di sicurezza vive lontano dalla Calabria dal 1997. Quindi alle 17 in Sala Rossa gli verrà consegnata dal Sindaco Sergio Chiamparino e dal Presidente del Consiglio Comunale Giuseppe Castronovo la cittadinanza onoraria di Torino. Non abbiamo le notizie di Torino Click perché come sapete venerdì era in atto uno sciopero dei dipendenti pubblici quindi i colleghi hanno scioperato, avremo poi oggi pomeriggio probabilmente le anticipazioni per quanto riguarda il numero in uscita domani. Passiamo a vedere le notizie dal web della città. Allora vi dicevo della possibilità di seguire il Consiglio Comunale in diretta a partire dalle ore 15 sul nostro canale multimediale e varrà la pena di ricordare ancora quali sono le fasce protette per lo sciopero dei mezzi pubblici. La prima fascia relativa alle linee urbane, suburbane e metropolitana si è conclusa da pochi minuti perché i mezzi viaggiavano fino alle 9 e saranno ancora attivi dalle 12 alle 15. Per quanto riguarda invece le autoline extraurbane, le ferrovie e le linee 43, 46 sbarrato e 19 riprenderanno il servizio dalle 14 e 30 alle 17 e 30. Vi segnalo, come ha già detto anche Walter, che in occasione dello sciopero le limitazioni della ZTL ordinaria e della ZTL ambientale per oggi sono sospese. Passiamo a vedere come ultima cosa le webcam anche per vedere se il traffico in città è ad alti livelli oppure no. Andiamo a vedere Piazza Palazzo di Città, questa è la situazione, vedete un po' di taxi che sfilano in via Milano. Poi abbiamo un panorama dal centro cittadino verso la collina, vedete la visibilità non è ancora ottimale ma ci stiamo lavorando, potremmo dire così. Questa è Piazza Pitagora in l'incrocio con Corso Siracusa in direzione nord, come vedete è un'immagine di qualche secondo fa, non ci sono particolari problemi alla circolazione nonostante lo sciopero. Chiudiamo con la rotonda autostrade verso la Torino Milano, qualche auto in uscita dall'autostrada ma niente di particolarmente complicato sulla rotatoria. Bene, allora possiamo ritornare in onda per darci appuntamento oggi pomeriggio alla nostra seconda edizione delle 16.15 per chi lo vorrà. Io vi ringrazio e vi auguro una buona giornata.